il suggeritore chi parla per davvero è sottoscritto dicevo al primatore nel foyer però l'applausi del ibecchi te e quello scemo se magnava il fritto perché il testo invece chi l'ha scritto mica che l'ha inventato tu d'amblè la parma dell'artista aspetta a me strillava e sventagliava il manoscritto e mb se sa il teatro è una malia tutti parlava al posto di qualcuno che non c'è sta o che se ne è andato via e pensa che alle volte sarvo ognuno me figuravo che la voce mia fosse parlata adunque da nessuno grazie